Allora è di che? Di Sicilia, perfetto, di cos'è? Di Paternò, qui è un chiuso di Paternò, qual è il numero fortunato che lei vuole chiamare? Il numero 27, 27 dicembre, la partenza, la partenza, vediamo un po' la partenza, vediamo un po' quanti soldi ha la partenza, quanti soldi ha, 100.000 signori, 100.000, 100.000 euro, va avanti, va avanti col gioco? Pronto, dottoressa, quanto vuole? La dottoressa dice 100.000 euro, 100.000 cannoli, che fa, va avanti o rifiuta l'offerta? Rifiuta l'offerta e vado avanti, rifiuta l'offerta e va avanti, bene bene, è ora, è il momento di chiudere la trasmissione di Affari Tuoi e di passare a Canale 5, salve, ma è vero che lei l'hanno fatto capo di tutto, però non l'hanno fatto capo di rifiuta, starà riconoscendo, ma quello ti penso io, il mio nuovo libro sarà di capo a lei, Emanuele, Emanuele, le do il tapio perché lei, ma cosa mi va a fare, 199 amici scarsi, è vero, buoni, ma adesso, ma adesso io le do 30 tapio per questo,